Sembra un lontano gemello del celebre C1P8 di Star Wars, ma invece di viaggiare nello spazio questo robot a breve, promettono i suoi progettisti, incomincerà a circolare per le nostre strade al posto degli agenti di sicurezza. Il suo nome è K5 e lo produce la King Knight Scoop. È alto circa 1,50 m ed è un robot autonomo progettato allo scopo di pattugliare e sorvegliare i territori per lo più industriali e civili. È dotato di GPS e fornisce informazioni via Wi-Fi o connessione cellulare a una base utilizzando un mix di quattro fotocamere, microfoni, radar e sensori ambientali, pronti a individuare incendi e perdite di gas e se un malintenzionato cerca di immobilizzarlo, K5 lancia un allarme.